Il modo frigio con la sesta diesis in tonalità di sol è composta dalle seguenti note tra il sol e il la bemolle un semitono, tra il la bemolle e il si bemolle un tono tra il si bemolle il do un tono, tra il do e il re un tono tra il re e il mi un tono, tra il mi e il fa un semitono, tra il fa e il sol un tono Ci sono due variazioni nella direzione a scendere di fretta, sono la bemolle e si bemolle Grazie